vai tu ci sei parla ragazzi allora oggi sono tutto visto in monte a pigliare due fagiani ora per ora ho preso la vodka una bella quando stavamo a fare la caccia grossa la ciole vodka a colazione a pranzo digestione e stai l'ho comprato il discount io stavo nemmeno a dicembre dice la gente che hanno guardato i termosifoni accesi io mi tocca un ricondizionatore a manetta che mi fa cardio e allora sarà la vodka come sono mia allora stamani si pigli il fagiano si pigli il fagiano di funghi altra volta venni e ha messo e presi una trota ma che scherzi gli parai gli parai preparati così cane sentire che comincia agli spese a una scoppetta e poi mettono il sole una vidi una vidi un da vidi un da vidi l'interno di soli vai sciottino e poi si comincia siamo passi un capriolo ma è difficile più facile passi almeno si vedo due scinghiali alla volta voglio me partire una fucile va bene nulla il fucile può succedere un colpo può partire è successo a tutti con puntare il dito così ho questo sistema e vedo due scinghiali per volta due alla volta ne piglio io posso succedere cazzo di sicura ora voglio vedere il che ho preso con la carabina magari ho preso una volta preso una carpa una carpa poi ho altro sciottino ora ne vedo il bacio alla carabina questa qui la vi ho sotterrata e poi con quello di presa e no ma che scherzi questi quattro cinghiali alla volta ne piglio io quattro per volta una volta preso un calciatore neanche ora ora vuoi vedere il che ho preso il cane ha sentito qualcosa ha sentito qualcosa comunque una cosa l'ho presa una ceres stamattina di bar l'ho presa e l'ho presa sicuramente ma ne man presta calata vai vai stasera a spiedini di vodka